allo so de roma mi chiamo oronza la stronza così mi chiamano gli amici e so defrascati e niente sto qua a fare sto messaggio sto video messaggio perché sto cercando il ragazzo no e lo so che una bella come me non dovrebbe stare qua su internet che sto troppo gnocca no e però sai io sto cercando uno bene o tanti che mi corron dietro ma io cerco proprio quello quello bello no quello proprio stragnocco tipo rigida e beautiful no e niente io vi dico che so gnocca vabbè quello lo vedete e sono bella anche dentro oltre che fuori no e cosa dirvi e niente chiamatemi 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 io vi aspetto aspetto le vostre chiamate chiamatemi fatevi sentire poi usciamo e andiamo a becci qualcosa magari affrascati insomma vicino al tene invece stanno i pantecani perché è l'animale che mi piace di più no non so come mai secondo me in un'altra vita ero una pantecana sì 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 perché proprio non mi piace non mi piace non mi piace ste fantecani e niente ci mettiamo la guardiamo ste fantecani passare e passiamo una serata romantica ci state va bene o allora aspetto le vostre chiamate e mi raccomando gnocchi intelligenti ai tanti con due spalle tanta e insomma chi più ne ha più ne metta eh già stretto eh da oronza alla stronza ciao